Degli aggiustamenti o Draghi va avanti per la sua strada? Draghi ci ha dimostrato sempre di anteporre la praticità e l'urgenza di portare a casa le riforme che gli sono care nel governo alle diatribe dei partiti, però questa è una settimana davvero complicata, forse la più difficile da quando si è insediato il governo Draghi, proprio perché c'è una commissione di questioni urgenti e complicatissime da dipanare tutte insieme, la questione della legge di bilancio con gli attriti tra i partiti che rumoreggiano più del solito, soprattutto su alcune di quelli che sono un po' i cavalli di bandiera, anche un po' ideologici delle varie forze in campo, questione pensioni in primis, che poi in realtà è più irrilevante di quello che sembra, perché ci se la gioca su riformine delle pensioni, si parla di fare qualcosa che eviti scalini e scaloni rispetto poi al faro della legge Fornero, che è quella direzione verso cui va appunto il governo Draghi, quindi parliamo di questioni minime, ma che hanno un peso massimo in termini di rendita dei partiti. Poi c'è il G20, un po' funestato insomma dalle crisi internazionali in corso, con la Cina che non si sa se ci sarà, la Russia che forse ci sarà, ma è in teleconferenza, che non è un gran segnale. E poi c'è l'altra questione caldissima che è MPS, un altro tema che rischia davvero di mettere in crisi la leadership Draghi, un po' perché è anche una questione sua in senso proprio professionale tutta la partita della banca e poi perché appunto questo fattore tempo, c'è lo slittamento oltre alla fine dell'anno per vendere la banca ed evitare la nazionalizzazione rispetto al 64% delle quote che è il tesoro, insomma non è così scontato che l'Europa conceda una proroga. Tutto questo rende la settimana in corso forse una delle più cruciali e complicate per Draghi, vedremo come andrà a finire insomma se riuscirà a navigare fuori restando ben saldo a galla. Sì, sì, qualcuno ha scritto che appunto, tu lo ripetevi adesso, che per Draghi è una settimana insomma molto intensa e molto complicata, peraltro hai fatto bene a citare MPS, poi insomma tu dirigi il più importante giornale del Toscano e quindi sappiamo quanto questa vicenda poi si riverberi in quel territorio, vicenda ancora tutta in evoluzione.